Con questo gran gol di Crialesi a 30 secondi dall'inizio della ripresa e dopo 692 minuti di astinenza, il Catania credeva di aver sconfitto l'Ascoli e la sfortuna e invece su quest'azione di Borghi, a tre minuti dal termine, l'arbitro Delia ha concesso il rigore ai marchigiani e De Vecchi, specialista dal dischetto, ha raccolto il pareggio per la sua squadra, scatenando poi a fine partita la contestazione vociante dei tifosi.